Forte e coraggiosa, la quattordicenne assistita da uno psicologo ha ripercorso con la memoria quei terribili momenti vissuti nella notte e lo ha riconosciuto in foto. I carabinieri di Civitanova Marche hanno fermato nella serata di venerdì un 25enne marocchino irregolare sul territorio italiano ritenuto responsabile dello stupro della quattordicenne. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la violenza si sarebbe consumata in una zona boschiva vicino al centro cittadino di Civitanova Marche. La quattordicenne originaria della provincia di Ancona era arrivata a Civitanova con la famiglia in compagnia dell'amica sedicenne. Dopo una serata trascorsa in un locale del lungomare sud è stata avvicinata dalla giovane marocchino che ha convinto le due ragazze a seguirlo al bar e poi ad accompagnarlo in un parchetto non lontane dove li ha raggiunti un altro giovane di origini marocchine. La quattordicenne a questo punto, stando alla ricostruzione dei carabinieri, si sarebbe allontanata di qualche decina di metri dalla sua amica in compagnia del quindicenne il quale le avrebbe offerto della cocaina. A quel punto la ferocia. Lui avrebbe preteso una prestazione sessuale in cambio della droga e dinanzi al rifiuto della ragazzina il venticinquenne l'avrebbe colpita e bloccata minacciandola di morte e costringendola a subire la violenza sessuale. Solo dopo alcuni minuti la quattordicenne è riuscita a scappare raggiungendo in lacrime l'amica per poi allontanarsi insieme e chiamare i carabinieri. I militari, prontamente intervenuti, si sono adoperati per garantire immediatamente il soccorso sanitario e trasportare in pronto soccorso per la quattordicenne scattato il protocollo rosa per le vittime di violenza. Le indagini si sono fin da subito concentrate sul sistema di videosorveglianza, ripercorrendo le tappe che i tre hanno fatto insieme prima di raggiungere il boschetto. Le immagini, catturate dalla videosorveglianza del bar dove i tre si sono fermati a bere, hanno consentito di visionare il volto del venticinquenne, il quale è stato identificato e riconosciuto da entrambe le ragazze. Lo straniero è già noto alle forze dell'ordine per reati precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Raggiunto dai carabinieri in una casa di fortuna a Cevitanova, è stato accompagnato in caserma e sottoposto a fermo. Deve rispondere di violenza sessuale pluriaggravata nei confronti di una minore, abusando della sua condizione di inferiorità fisica e psichica. Su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato tradotto nel carcere di Pesaro e sarà ascoltato nei prossimi giorni per l'udienza di convalida.